Buongiorno a tutti, io sono Edoardo De Angelis e questa è la prima delle quattro lezioni proposte dal MEI, Meeting delle Etichette Indipendenti, dal titolo Cantautori si diventa, come sottotitolo, come scrivere una canzone d'autore in quattro lezioni di 15 minuti. Ovviamente l'impegno è un po' arduo, io non pretendo di insegnare in generale, però mi diverte, penso che potrebbe essere utile darvi qualche suggerimento agli aspiranti cantautori o alle molte persone che si interessano al genere. Direi di cominciare dai ringraziamenti invece di lasciarli per la coda e quindi naturalmente ringrazio tutti voi che mi state con pazienza e con sopportazione ascoltando e poi continuo ringraziando il MEI, naturalmente Meeting delle Etichette Indipendenti, che tra le altre cose quest'anno festeggia il 25esimo compleanno, il 2, 3, 4 ottobre in quel bellissimo luogo del mondo, quella bellissima città che è Faenza. Ringrazio naturalmente nel MEI il rappresentante, il titolare del MEI, Giordano San Giorgi, al quale devo anche quest'idea di queste quattro lezioni, però insomma cominciamo subito. La prima cosa che mi viene in mente è che cosa si definisce per canzone d'autore. La canzone d'autore non è esattamente come un'altra canzone. Va bene che Edoardo Bennato, il mio omonimo, diceva e cantava sono solo canzonette, ma lui cantava sapendo di dire una bugia, perché le sue in realtà non erano solo canzonette, ma anzi erano canzoni dense di significato. La canzone d'autore, dal mio punto di vista, si dovrebbe differenziare dalle altre canzoni, da quelle appunto che Edoardo Bennato definiva canzonette, per il fatto che la canzone d'autore dovrebbe rappresentare la vita degli uomini e quando dico uomini naturalmente intendo anche donne. Mi viene sempre in mente un aneddoto legato al mio amico Sergio Endrigo, quando cantava l'Arca di Noè, questa canzone famosissima che fece epoca perché era una delle prime canzoni nelle quali c'era un testo completamente innovativo e molti di voi lo ricorderanno. Chi non avesse memoria di Endrigo e dell'Arca di Noè è pregato insomma con i mezzi moderni dell'informazione di andare su internet cercare di ascoltare la canzone perché ne vale certamente la pena. Endrigo quando cantava questa canzone a un certo punto nel Cisono di Tornello cantava l'ultimo verso che fatica essere uomini e poi si fermava e diceva naturalmente quando dico che fatica essere uomini intendo anche dire che fatica essere donne. Per cui quando io vi dico che la canzone d'autore è quella che dovrebbe rappresentare la vita vera, la vita degli uomini nel loro insieme, la loro singola posizione nel mondo insieme a tutti gli altri, quindi i sentimenti, lo scambio di sentimenti, la loro storia, parlo di una canzone diversa, quella che viene definita una canzone di impegno che poi naturalmente ci possono essere diversissime sfumature riguardo a questo discorso dell'impegno perché naturalmente è una canzone di impegno anche quella che parla dei sentimenti e per lo più mi viene in mente un illustre, illustrissimo collega e amico che si chiama Claudio Baglioni che in effetti ha descritto i nostri sentimenti, i sentimenti di tutti, sicuramente anche i suoi, ma attraverso i suoi anche i sentimenti di tutti gli altri, così come in realtà poi ci sono stati cantautori e ci sono cantautori più o meno impegnati nelle diverse momenti, nelle diverse epoche, insomma sarebbe facile ricordare Guccini, Francesco, sarebbe facile naturalmente ricordare il mio amico, un altro Francesco, De Gregori, ce ne sono tantissimi, direi che ce n'è uno per il gusto di ognuno di voi, almeno uno, io non vi dirò adesso quali sono i miei preferiti perché questo non è come dire l'intento, l'intento è quello di spiegare come nasce una canzone cosiddetta d'autore. Direi di cominciare dal fatto che ogni canzone, così come ogni opera dell'ingegno, in realtà dovrebbe nascere da un'esigenza, quindi da un'idea di rappresentare qualche cosa. Le idee sono di due tipi, quelle che vengono facilmente e quelle che non vengono, quindi se non vengono non c'è nulla da fare, è inutile sforzarsi, però direi che la vita di ogni giorno e la vita degli uomini insieme spesso suggerisce alla possibilità di suggerire delle idee degli spunti per scrivere, per descrivere i propri sentimenti attraverso quelli, i sentimenti di tutti gli altri. E allora forse a questo punto bisogna fare un esempio. Ad esempio a me molte canzoni, molte idee vengono fuori quando riesco a liberare il pensiero da altri ingombri e soprattutto più di una volta, direi anche parecchie volte, mi è capitato di scrivere canzoni quando sto guidando, quando sono in automobile, meglio ancora in autostrada, dove il percorso è lungo, spesso per fortuna non accidentato, senza troppo traffico, allora si, come dire, si innesta un meccanismo di pilota automatico facendo sempre naturalmente molta attenzione e il pensiero però si libera e da libero va a cercarsi degli appigli, delle sponde. In particolare l'ultima volta che mi è accaduto di scrivere una canzone al volante era circa un paio d'anni fa quando stavo lavorando all'ultimo album pubblicato che si chiama Nuove Canzoni. In quest'album c'è una canzone che è nata così come altre mie in automobile, allora in quell'occasione mi ricordo che ho acceso il motore, mi sono messo alla guida e ho cominciato a pensare alle cose più, perché una canzone può nascere da naturalmente da qualunque idea sia, si dimostri poi valida e quindi ho cominciato a pensare ai nomi di donna, ai nomi, ai miei nomi preferiti, nomi che mi piacciono di più, di meno e mi è venuto in mente un nome molto semplice, un nome breve, sintetico, un nome palindromo, Anna naturalmente. E così appena ho pensato ad Anna, ho pensato pensando ai miei pensieri, ho pensato Anna è un nome bellissimo e quello era già all'inizio di una canzone. Anna è un nome bellissimo, istintivamente mi è venuto di descrivere questa, quest'idea, questa forma di semplicità che ha questo nome e ho pensato Anna è un nome bellissimo, profuma di pulito e allora lì la canzone era già partita. Quando poi, come il motore della macchina funziona questa, questa faccenda, quando metti in moto questo motore del pensiero, allora poi non riesci più a, non riesci più a spegnerlo se l'idea è buona, se è valida, ti metti in corsa, oltre a quella della macchina c'è anche la corsa dei tuoi pensieri e allora ho cominciato a pensare a tutte le cose che si potevano riferire al nome di Anna, per esempio a tutte le persone che hanno portato, le persone celebri e anche quelle più comuni che hanno portato e portano questo nome e allora qui la canzone ha preso un taglio diverso perché poi nel nel preinciso e dopo naturalmente parleremo anche nella della struttura della della struttura di una canzone. Nel preinciso io a un certo punto nel testo della canzone scrivo Anna è un nome bellissimo, è un nome da regina, è il nome di una santa e di una ballerina, di quella contedina bellezza di stagione che illumina il suo viso con l'acqua e col sapone. Sono tutti immagini che vengono da immagini reali perché in effetti c'è stata un'Anna regina, un'Anna santa naturalmente e via discorrendo. e quindi già la canzone aveva preso una sua forma tra questo inizio della canzone Anna è un nome bellissimo, profuma di pulito, è un nome gentilissimo e su questo gentilissimo poi torneremo perché qui c'è un significato anche qui, è un nome gentilissimo, ha il suono di un invito a togliere le scarpe e correre su un prato, cantare una canzone fino a perdere il fiato e questo era l'inizio di Anna e poi appunto Anna è un nome bellissimo, un nome da regina però forse per fare un esempio un pochino più calzante dovrei prendere la chitarra e provare ad accennarle e poi a spiegare un pochino la struttura. Naturalmente una cosa che si fa quando si prende la chitarra si prova a sentire se è accordata o da accordarla. A questo proposito c'è una schiera di maligni che dicono che noi suonatori di chitarra passiamo metà del tempo ad accordare la chitarra e l'altra metà del tempo a suonare con la chitarra scordata. Io penso che questa sia appunto una malignità proveniente soprattutto dal mondo dei pianisti perché i pianisti quando devono accordare il pianoforte insomma la cosa è un po' più complicata, devono chiamare un accordatore e pagarlo soprattutto. Allora deve essere per questo, per questa invidia per l'agilità dello strumento e allora ho pensato naturalmente a una tonalità adatta alla mia voce e in questo caso non c'è stato bisogno di fare molto lavoro. La tonalità giusta era questa, la maggiore e la canzone si è dipanata quasi da sola trovandole un ritmo che poi io ho pensato un popolare anche questo per la semplicità che ci voleva ad accompagnarla a me è un nome bellissimo profuma di pulito e un nome gentilissimo nel suono di un invito a togliere le scarle e correre su un prato, cantare una canzone fino a perdere il fiato. Allora è un nome bellissimo, è un nome da regina, è il nome di una santa, e di una ballerina di quella contadina, bellezza di stagione che illumina il suo viso con l'acqua e col sapore. E qui a un certo punto c'era bisogno di una apertura cosiddetta, di quello che viene chiamato inciso perché sta in mezzo alle strofe, quelle che avete sentito erano due strofe e l'inciso, però dell'inciso penso che dovremmo parlare nella prossima lezione perché vedo che il minutaggio si avvicina, non vorrei andare oltre al consentito e allora uso questi ultimi 30 secondi per raccomandarvi quello che anche il MEI e Giordano San Giorgi vi raccomandano, ragazzi state a casa, davvero la cosa è la cosa è seria, è meglio non uscire, stare un po' sacrificati, oltretutto come tutti vi dicono e vi insegnano ci sono molte cose da fare a casa tra le quali naturalmente ascoltare queste lezioni per diventare cantautori e naturalmente ci sono tante cose, ascoltare musica e leggere, leggere è la cosa più importante che possiamo sempre fare. Ci vediamo alla prossima puntata. Grazie. Grazie.